venditalia 2022 continua abbiamo tante novità da presentare qualcuna anche qui allo stand di ricambi garlusi srl con massimiliano garlusi il suo ceo il suo deus ex macchina massimiliano bentornato dopo ben quattro anni grazie bentornato anche a te fabio un piacere sempre rivederti è un grande piacere essere qua in questa per noi nuova edizione di venditalia perché dopo quattro anni la dobbiamo considerare una secondo me una nuova edizione dopo questo è il secondo giorno bella manifestazione mi sembra tanti interessi si è alzato molto alla qualità degli degli espositori penso anche dei visitatori e noi siamo qua appunto dopo quattro anni l'abbiamo sempre fatta presentiamo la nostra divisione dei ricambi dedicati allo cs con molte novità e invito tutti a venirla a visitare sul nostro sito ricambigardosi punti t e tutta una selezione di ricambi specializzati soprattutto nell'ocs su alcuni settori delle macchine vending e soprattutto per quei piccoli operatori che hanno bisogno di assistenza e di un supporto veloce pratico che penso col giusto rapporto qualità prezzo per le quelle esigenze che vanno incontro ad un mercato del della casa delle macchine ocs che soprattutto in questi ultimi anni ha avuto veramente una grossa esplosione massimiliano nel vostro caso c'è stata una grossa specializzazione su tutto ciò che è come dicevi proprio poco fa lo cs il mercato delle macchine per la casa e l'ufficio quali sono le maggiori particolarità di questa concentrazione su cui avete diciamo basato anche gran parte del vostro business futuro ma noi come come aziende come famiglia ci dedichiamo a questo settore da ormai 30 anni era lontano 92 quando ci siamo affacciati in questo mercato e sia come costruttori sia come ricambisti ovviamente abbiamo ci consideriamo un'azienda con una specializzazione trasversale sia come costruttori per cui abbiamo dedicato sempre attenzione allo sviluppo della progettazione ma anche con un'esperienza della della trasformazione del caffè cosa che non è da trascurare in più abbiamo la conoscenza di tutte anche le macchine presenti sul mercato per via della componentistica per cui riusciamo riusciamo a fare anche quel mix giusto di di nostra esperienza da poi dopo mettere a servizio della nostra clientela ovviamente conosciamo piuttosto bene anche pensiamo di conoscere bene la struttura del mercato cambiata notevolmente in questi in questi anni si pensa che una volta era tutto in mano alla distribuzione automatica il mercato della dell'ocs e oggi è una grossa grossa fette andata direttamente alla alla casa nei vari canali che che ormai conosciamo e allora massimiliano per tutti coloro che sono dall'altra parte e desiderano entrare in contatto con voi qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere commerciale chiocciola ricambigardosi.it o quello istituzionale info chiocciola ricambigardosi.it saremo felici di ascoltare tutte le esigenze e anche consigli per poter sviluppare migliorare sempre più la nostra gamma e il nostro servizio grazie grazie per il prezioso contributo ciao massimo ciao fabio ciao a tutti quanti alla prossima